Buonasera, buonasera a tutti quanti voi, benvenuti in questo consueto appuntamento che facciamo ogni venerdì sera per parlare della famiglia. Questa sera faremo qualcosa di diverso da tutte le altre volte, vogliamo parlare un po' di sostegno alle famiglie, oltre a quello spirituale anche pratico. Abbiamo cambiato un po' l'ambiente, ci troviamo qua nella sala, vogliamo condividere questo tempo insieme perché desideriamo presentare delle nuove iniziative, desideriamo incoraggiare le persone che stanno attraversando momenti di difficoltà. Così io ti chiedo questa sera se ti fa piacere, poi alla fine puoi anche condividere perché forse interesserà a qualche persona di quello di cui stiamo parlando. Non vogliamo parlare solo ed esclusivamente di cose spirituali ma vogliamo parlare anche di cose pratiche, quello che facciamo noi come Chiesa, come Gospel Center, come persone che ci adoperiamo per il bene delle famiglie. Questa sera parleremo anche di famiglie ma parleremo di aiuto pratico alle famiglie. Ovviamente il primo aiuto che vogliamo dare alle persone è sempre quello, l'aiuto spirituale, ma non ci limitiamo solo a quello. Una delle tante attività che facciamo come Chiesa, come Gospel Center non è soltanto di predicare la parola di Dio ma di stare vicino alle persone, di onorare le persone, di dare il giusto valore alle persone, di dare il giusto valore al matrimonio, alla famiglia, alle persone che sono sole. Ci sono tanti progetti nel nostro cuore e desideriamo che ogni progetto che Dio ha messo nel nostro cuore possa trovare l'adempimento in questo tempo e la realizzazione nel cuore di ogni famiglia, nel cuore di ogni genitore, di ogni padre, di ogni madre, di ogni marito, di ogni moglie, di ogni figlio. Perché noi vogliamo amare tutto quello che Dio ama e desideriamo anche onorare quello che Dio onora e rifiutare tutto quello che Dio odia. Quindi vogliamo attenerci fermamente alla parola di Dio. Per farvi un brevissimo elenco di tutti i servizi che noi facciamo come Chiesa Gospel Center, primo è predicare la parola di Dio, fare degli insegnamenti sulla parola di Dio, poi facciamo anche delle consulenze a persone, li sosteniamo con la parola di Dio, li sosteniamo con i consigli, con la sapienza che Dio ci dà, sosteniamo anche i matrimoni, le coppie, i giovani. Poi abbiamo anche altre attività come il Connection che si tiene una volta alla settimana, sono dei piccoli gruppi che si riuniscono. Ovviamente quando non c'era questa emergenza ci riunivamo di casa in casa per stare insieme, per avere comunione gli uni con gli altri, ma vista l'emergenza adesso facciamo tutto online e quindi anche questo è un buon modo per poter stare in compagnia perché oggi vediamo che siamo tutti rinchiusi nelle nostre case, tutti isolati, forse ci mettiamo dietro un display, dietro il cellulare, dietro un computer, dietro un iPad e andiamo sempre alla ricerca, alla ricerca, alla ricerca di qualcosa, ma noi vogliamo anche usare questa tecnologia per stare insieme, quindi come Gospel Center abbiamo dei gruppi, quindi Connection Group, dove stiamo insieme, parliamo, ci edifichiamo, si prega, si socializza, si fanno progetti, si fanno condivisioni di vario genere. Vogliamo elargire questo a tutti quanti voi, questo progetto che abbiamo già da anni in corso perché desideriamo chiunque si può unire, perché desideriamo incoraggiare, fare compagnia, pregare insieme, sostenere, dare una parola di conforto, dare una parola di direzione, dare una parola di incoraggiamento a tutte quelle persone che ne avessero di bisogno oppure ascoltare anche le persone perché non parliamo solo noi ma stiamo sviluppando l'arte e la capacità di ascoltare le persone perché oggi vediamo che la società non vuole più ascoltare nessuno. Forse abbiamo il desiderio di parlare ma non c'è nessuno che ci ascolta così anche noi stiamo sviluppando la capacità e l'arte di sapere ascoltare. Nei Connection si fa anche questo, ascoltiamo le persone che fanno parte del Connection. Oltre a tutto questo abbiamo anche degli studi che facciamo online, quindi insegniamo la parola di Dio, abbiamo delle classi di studio dove a secondo la crescita e l'esperienza della persona insegniamo la parola di Dio e istruiamo le persone nella conoscenza di Dio e quello che c'è nel nostro cuore è di portare, riportare l'uomo, ovvero il cuore dell'uomo sempre più vicino al cuore di Dio. Quindi riportare l'uomo ad avere una relazione con Dio e lo facciamo anche attraverso gli studi biblici. Ma questa è la parte spirituale, poi c'è anche una parte pratica che noi facciamo come Gospel Center, facciamo la distribuzione delle derrate alimentari, poi abbiamo anche un banco farmaceutico dove facciamo distribuzione di farmaci, poi stiamo attivando degli altri servizi, un call center e anche un servizio di assistenza alle persone che si trovano in quarantena o persone anziane che sono impossibilitati a muoversi da casa perché sono in quarantena o sono anziane e noi stiamo attivando, stiamo realizzando, stiamo pianificando, ci stiamo attrezzando per mettere in atto anche questo servizio ma ne parleremo un po' più avanti. Perché facciamo tutto questo? Perché è biblico. La Bibbia, sono stato ispirato oggi, a proposito della scrittura la troviamo in Marco al capitolo 4, la Bibbia dice che Gesù andava per città, villaggi, predicava, insegnava alle persone ma non li lasciava soltanto con l'insegnamento della parola di Dio ma provvedeva anche per i bisogni delle persone e per quanti conoscete la parola di Dio, per quanti non la conoscete potete avere possibilità di conoscere. La Bibbia dice che Gesù sbarcato vide una grande folla e ne ebbe compassione perché erano come pecore senza pastore. Cosa accade? Che oggi ci sono una grande folla di persone che sono come pecore senza pastore. Sapete, la pecora è l'unico animale che ha bisogno continuamente di essere guidata. Tutti gli animali, il cane si sa procurare da mangiare, il gatto si sa procurare da mangiare, il topo si sa procurare da mangiare, il leone si sa procurare da mangiare, può vivere da solo, cammina da solo ma la pecora ha bisogno di una guida, ha bisogno di una direzione, ha bisogno di un pastore che lo guida verso pascoli di tenera erba. La Bibbia dice che Gesù vedendo questa grande moltitudine di persone ne ebbe compassione. Dice perché erano come pecore senza un pastore senza una guida. Dice la Bibbia che prese ad insegnare loro molte cose. Così Gesù cosa faceva? Gesù faceva una cosa, per questo il nostro fondamento principale è la parola di Dio. Gesù dice che insegnava, predicava, guariva ma provvedeva anche per i bisognosi come in modo soprannaturale. Quindi il fondamento del Gospel Center, noi ci atteniamo ad un Vangelo spirituale, pratico, soprannaturale ma anche ci prendiamo cura dei bisogni delle persone. Non soltanto quello spirituale ma anche cura dell'anima e anche cura alimentare, cura del corpo. Dice ed essendo già tardi perché Gesù insegnava, predicava a queste folle ed essendo tardi la Bibbia dice che i suoi discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero maestro questo luogo è deserto, manda via questa folla, licenzia questa folla perché se ne vada nelle le campagne nei villaggi all'intorno a comprarsi del cibo perché non hanno nulla da mangiare. Si era fatto tardi e i discepoli ragionavano in modo naturale, in modo razionale dicendo licenzia questa folla perché si è fatta tardi in modo tale che hanno la possibilità di andare nei villaggi vicino o nelle campagne, nelle borgate a comprarsi da mangiare perché non vengano meno per la via. Ma Gesù mise alla prova i discepoli dicendo date voi da mangiare a queste persone e i discepoli gli hanno detto dice ma noi con pochi soldi, con 200 denari potremmo andare a comprare, mangiare per tutta questa gente perché la gente che assisteva, la Bibbia ci dice che erano 4.000 persone senza contare le donne e i bambini. I discepoli ragionavano in modo razionale ma Gesù li mise alla prova e gli disse date voi da mangiare. I discepoli ha detto guarda dice non abbiamo niente abbiamo soltanto pochi pani e pochi pesci ovvero abbiamo cinque pani e due pesci come potremmo sfamare questa moltitudine di persone con pochi pani e pochi pesci e Gesù gli disse ai discepoli portatemeli qua così i discepoli gli portarono questi pochi pani questi pochi pesci Gesù la Bibbia dice che li alzò al cielo li benedisse e poi li mise nuovamente nelle mani dei discepoli gli disse iniziate a distribuirli quindi una cosa molto importante noi il fondamento è la parola di Dio e quindi tutto quello che facciamo lo facciamo sulla base della parola di Dio vogliamo insegnare alle persone la prima cosa che le persone hanno di bisogno è la parola di Dio tant'è che la Bibbia dice in Matteo capitolo 4 versetto 4 l'uomo non vive di solo pane ma bensì vive di ogni parola che procede dalla bocca di Dio quindi è importante il primo bisogno che ha l'umanità non è quello il mangiare il cibo solido il pane la pasta il latte e queste derrate alimentare ma il primo bisogno di ogni uomo è la parola di Dio e quindi come priorità al vertice della nostra provvidenza che forniamo alle persone alle famiglie è la parola di Dio perché la Bibbia dice che l'uomo non vive solo del pane ma bensì vive di ogni parola che procede dalla bocca di Dio perché questo perché ci sono tante persone in questo tempo che stiamo vivendo di emergenza un tempo molto strano un tempo strategico un tempo doloroso per tante famiglie un tempo di afflizione per tante famiglie perché hanno perso i loro cari ci sono tante famiglie che hanno i loro cari negli ospedali chi è in coma chi è ammalato non li può vedere ci sono tante famiglie in difficoltà e non hanno in questo momento bisogno di pane perché una persona che è ammalata che si trova in terapia intensiva sicuramente non ha bisogno della pasta non ha bisogno del pane ma in questo momento ha bisogno della parola di Dio così la Bibbia dice che ogni uomo la prima priorità di ogni uomo è cibarsi della parola di Dio quindi vogliamo partire da un testo base che noi tutto quello che facciamo il primo cibo che vogliamo dare alle persone è la parola di Dio e la Bibbia dice che la tua parola è una lampada al mio piede è una luce lungo il mio sentiero il salmista diceva questo che la parola di Dio è come una lampada ci porta a vedere ed oltre a tutto questo è una luce lungo il mio sentiero per questo nel nostro cammino terreno noi abbiamo bisogno della parola di Dio perché la parola di Dio ci illumina quale direzione prendere quale scelta fare quale porta chiudere quale strada non percorrere e la parola di Dio ci dà intendimento quali sono le giuste direzioni ma soprattutto la giusta scelta che in questo tempo di emergenza dobbiamo fare e io credo personalmente che questo è tempo dove nelle famiglie si possa predicare la parola di Dio nel nostro cuore il nostro desiderio più grande è che la parola di Dio questa sera possa arrivare dentro ogni casa che la parola di Dio possa arrivare dentro ogni famiglia possa arrivare dentro al cuore di ogni genitore possa arrivare dentro al cuore di ogni conige possa arrivare dentro il cuore di ogni figlio perché il bisogno primario oggi dell'umanità è la parola di Dio è il sostegno di Dio ricevere la cura e la paternità di Dio perché possiamo avere tutto ma la Bibbia dice che vale all'uomo se conquista tutto il mondo e poi perde l'anima sua la cosa importante la cosa prioritaria per l'umanità è la parola di Dio ti voglio incoraggiare prima di cercare la pa il pane la pasta il cibo i soldi la posizioni il lavoro vai alla ricerca della parola di Dio perché la parola di Dio la Bibbia dice io sono il pane Gesù disse io sono il pane della vita e chi mangia di questo pane o beve dell'acqua della vita non avrà più sete e chi riceve Gesù nella propria vita nella propria casa non mancherà niente nel momento in cui Gesù arriva nella vita di una persona la vita di una persona sarà riempita dalla presenza meravigliosa di Cristo Gesù così oltre ai servizi che facciamo di predicare la parola di Dio facciamo anche delle consulenze cosa se non le consulenze sosteniamo le persone sempre con la parola di Dio e con la sapienza la saggezza che lo Spirito Santo ci dà per quella conoscenza che Dio ci ha dato abbiamo testato abbiamo visto che tante persone grazie a Dio comunque sono se possiamo dire rinate e quindi hanno riscattato riacquistato dei valori hanno riacquistato le famiglie hanno riacquistato posizioni identità e cose di questo genere quindi oltre alla predicazione della parola di Dio che ogni domenica facciamo su questa sala noi sosteniamo abbiamo anche un ufficio dove sosteniamo le persone con la consulenza ma non soltanto di persona lo facciamo anche attraverso le telefonate quindi attraverso la voce la Bibbia dice in proverbi capitolo 15 versetto 23 dice uno prova gioia quando può dare una risposta e quanto è buona una parola detta al tempo giusto sai è importante che ciascuno di noi possiamo avere su di noi possiamo avere delle persone accanto a noi ma possiamo avere anche delle persone su di noi che ci possano guidare è importante che abbiamo delle persone anche accanto a noi abbiamo degli amici e quando noi abbiamo la consapevolezza di un avere una persona su di noi che ci guida e non sto parlando soltanto di Dio padre non sto parlando soltanto dello spirito santo ma anche delle persone sagge dei ministeri che ci guidano e abbiamo degli amici nella fede Dio ci può usare per guidare altre persone e c'è un ordine in tutto questo noi non possiamo guidare altre persone se prima non siamo guidati noi e quindi se non siamo un buon modello di figli noi non possiamo essere dei buoni modelli di padre per questo è importante avere paternità e in questo tempo credo quello che Dio vuole fare è formare cuori di padri ad iniziare delle famiglie come padri naturali biologici ma formare anche padri spirituali che si possano prendere cura delle persone come Gesù la Bibbia dice era il buon pastore il buon padre si prende cura delle pecore così Dio vuole formare delle persone che hanno il cuore paterno di Dio per prendersi cura di altre persone e poi la parola di Dio dice in Colossesi capitolo 3 versetto 16 la parola di Cristo abiti in voi copiosamente in ogni sapienza istruendovi ed esortandovi nelle consulenze cosa facciamo cerchiamo di istruire e cerchiamo di esortare le persone a perseverare nelle vie del Signore a riconciliarsi a perdonarsi a chiedere perdono ad uscire fuori da determinate condizioni queste le consulenze che facciamo non siamo dei professionisti ma una cosa abbiamo abbiamo l'aiuto dello Spirito Santo che il professionista del professionista lui ci guida noi vogliamo renderci disponibile per aiutare delle persone vogliamo essere dei canali usati nelle mani dello Spirito Santo per aiutare sostenere le persone e dare dei saggi consigli in accordo alla parola di Dio alle persone alle famiglie ai coniugi o ai figli perché possano riconciliarsi con i genitori perché la Bibbia dice che negli ultimi tempi il cuore dei padri si avvicinerà verso i figli e i cuori dei figli verso i padri questo è tempo di riconciliazione e le consulenze le facciamo anche per questo perché famiglie siano riunite perché in qualche modo Dio sta usando questo tempo per restare nelle case per poter far sì che i nuclei familiari stiano nella propria casa e quindi ci sia riconciliazione ed unione poi cos'altro facciamo facciamo i connection group non voglio spendere tanto tempo perché già avevo parlato di questo sono dei gruppi di persone che prima ci vedevamo in caso ma visto l'emergenza che stiamo e le restrizioni che stiamo vivendo in questo periodo li facciamo attraverso zoom dove gruppi ci riuniamo durante la settimana e condividiamo i pesi i problemi le gioie i progetti i desideri le preghiere il sostegno l'uno con l'altro e se te ti fa piacere puoi farne richiesta che noi siamo ben lieti di poterti inserire con massima riservatezza in uno di questi gruppi in modo tale che anche tu puoi essere incoraggiato sostenuto e perché no ci potrai dare anche qualche buon suggerimento anche tu poi un altro servizio che già facciamo da anni dal lontano 2011 e questo è qualcosa dove voglio soffermarmi perché questo fa parte anche della grazia di dio del favore di dio e io mi sento onorato per questo servizio che svolgiamo perché già sin dal 2011 il prossimo anno facciamo dieci anni che abbiamo attivo questo servizio da quando abbiamo messo piede su questo locale subito dopo tre mesi dio ci ha aperto delle porte con un'associazione meravigliosa con un ente meraviglioso che vogliamo benedire è il banco alimentare del friuli venezia giulia che ci ha dato la possibilità di ricevere degli alimenti per poter distribuire a famiglie bisognose già a quasi dieci anni che sosteniamo persone sosteniamo famiglie con le derrate alimentari collaboriamo anche con loro quando c'è da fare la raccolta delle derrate alimentare siamo anche noi ben disponibili di aiutarla abbiamo affidato un supermercato dove facciamo delle raccolte per noi è una grazia noi siamo soltanto un tramite siamo un canale per benedire la vita di tante persone vi dico che in questi anni tante famiglie sono state benedette e oggi contiamo che riusciamo settimanalmente a sostenere ben 42 famiglie quindi ogni settimana 42 famiglie sono sostenute con alimenti da dove provengono questi alimenti provengono dal dai supermercati raccogliamo sia lunedì sia il mercoledì sia il venerdì grazie a delle persone meravigliose disponibili che col col loro volontariato vanno a fare il giro di tre supermercati raccolgono tutte le eccedenze tutte le derrate alimentari a breve scadenza e nella stessa giornata li distribuiamo alle famiglie bisognose bene ti dico che non abbiamo la distribuzione solo per una categoria di persone non guardiamo le persone né che di che nazionalità sono né di che ceto sociale sono né di che profilo religioso hanno noi valorizziamo l'umanità le persone e quindi il nostro obiettivo principale è quello di predicare la parola di dio ma aiutiamo anche le persone con le derrate alimentare approcciamo attraverso questo le persone anche per potergli predicare la parola di dio e di poterli portare alla conoscenza della verità non facciamo assistenzialismo per sostenere ma usiamo questo mezzo per aiutare le persone e anche per portare le persone alla conoscenza della parola di dio della provvidenza divina di dio padre che vuole fare ad ognuno di loro perché certo non è bello trovarsi in condizione di necessità e andare a chiedere aiuto nessuno di noi a volte è umiliante poter andare da un'associazione a chiedere guarda mi dai del cibo perché non posso mangiare nessuno di noi si vorrebbe trovare in questa condizione ma a volte possiamo attraversare tutti quanti momenti di difficoltà ma noi non vogliamo mortificare non abbiamo mai mortificato le persone non abbiamo mai umiliato le persone mai lo vogliamo fare perché gesù ha dato dignità alle persone per ogni persona di e prezzo ogni persona è preziosa per di e come ogni persona è preziosa per dio anche noi per noi ogni prezioso ogni persona è preziosa per noi cara al nostro cuore e settimanalmente noi diamo queste derrate in modo molto come dire servizievole alle persone che si trovano in difficoltà e stiamo vedendo come tante famiglie oggi si trovano sempre più in difficoltà almeno settimanalmente abbiamo famiglie che si aggiungono persone che si aggiungono che vanno vengono a chiedere aiuto sostegno perché veramente c'è una condizione molto precaria e noi ci stiamo adoperando anche per questo con la grazia di dio col favore di dio possiamo sostenere questo progetto perché sì il banca alimentare ci dà degli alimenti andiamo a raccogliere a noi ma grazie a dio io voglio ringraziare tutte le persone che che fanno parte di questa realtà del gospel center che settimanalmente si adoperano per andare a raccogliere nei supermercati lo portano qua e nei locali che abbiamo dall'altro lato selezionano tutta la merce fanno i pacchi li preparano li distribuiscono con un sorriso li donano alle persone ringraziamo dio per tutte le persone che sostengono perché abbiamo nel tempo comprato anche un furgone per di proprietà della dell'associazione e che va si fa il giro e quindi per ci sono persone che danno contribuiscono per sostenere queste spese sia dei locali sia del mezzo sia del carburante e tutto quello che ci vuole ma lo facciamo di buon cuore perché valorizziamo le persone le famiglie desideriamo che nella tavola di ogni persona nella casa di ogni persona non possa mai mancare niente quindi non parliamo soltanto di spiritualità perché la bibbia dice se una fede poi non dà alle persone l'aiuto dov'è la fede quindi noi ci agiamo agiamo con passi di fede ma anche aiutando le persone ed oltre a tutto questo di sostenere queste persone settimanalmente anche mensilmente abbiamo la grazia e il favore di sostenere delle famiglie sosteniamo circa 90 persone mensilmente con il banco alimentare proveniente dalla comunità europea che ringraziamo queste persone che si per il favore che noi abbiamo ricevuto da questo meraviglioso ente da questa meravigliosa associazione vogliamo ringraziarle siamo onorati perché ci sentiamo benedetti dal da collaborare da stringere questa collaborazione col banco alimentare del friuli venezia giulia ed oltre a tutto questo abbiamo anche un banco farmaceutico dove distribuiamo farmaci ovviamente abbiamo una donna che fa parte della chiesa è un infermiere professionale cosa facciamo distribuiamo anche dei dei farmaci da banco ovviamente tutto questo a persone bisognose non a chiunque cosa facciamo quando distribuiamo a chi qualcuno può dire ma chiunque viene può distribuire come fate a riconoscere le persone che realmente si trovano nel bisogno uno uno che va a chiedere si trova in una condizione di necessità ma oltre a questo ovviamente anche dietro direttive del banco alimentare della comunità europea dobbiamo attenerci del a dei regolamenti ovviamente chiediamo delle documentazioni prima di accedere a questo servizio non vogliamo umiliare nessuno i dati vengono trattati in modo molto riservato ci sono i documenti sono come dire custoditi nessuno viene a conoscenza di questo ma bensì solo ed esclusivamente una persona che li mette in archivio e restano là ed è fatto in forma molto ma molto riservato perché vogliamo riservare la dignità di ogni persona oltre a tutti questi servizi che svolgiamo consulenze matrimoniali studi prematrimoniale e tante altre cose che facciamo abbiamo anche un una libreria facciamo tante cose distribuiamo delle bibbie distribuiamo opuscoli volantini facciamo di tutto andiamo a evangelizzare bene adesso stiamo attivando un servizio di call center per quale motivo perché vogliamo aprire stiamo aprendo un centro di ascolto per tutte le persone che si trovano sole o si trovano in difficoltà e vi dico che ci sono tante persone che oggi si trovano in difficoltà ti voglio raccontare questa brevissima testimonianza questa settimana ho ricevuto una chiamata mi chiama una persona che frequentava prima la comunità e mi ha parlato di una determinata situazione non sto qua a raccontarvi i dettagli e sentivo che la sua voce era un po singhiozzante alla fine io ho chiesto e di un po e tu come stai dice bene bene va beh stava stava per chiudere la chiamata ma era incerto se chiudere la chiamata non chiudere così ho detto aspetta un attimo ti ho posto una domanda come stai no no bene bene ma sicuro che stai bene così iniziai a fare qualche domanda in più fin tanto che questa persona iniziò a piangere e io ho detto cosa succede dimmi cos'hai questa persona era molto triste una persona che vive da sola una persona che lavora in un ambiente dove ovviamente non è delle migliori un posto bello un è in pericolo di vita dice guarda dice ogni giorno lavoro con la morte in faccia perché dove lavoro ci sono tante persone che oggi sono positive io devo stare devo stare là sono vincolato e ho paura non si riesce più a capire chi sono i positivi chi non sono i positivi di covid e quindi inizio a piangere al che mi sono fermato detto aspetta fermo un attimo stiamo un po insieme a parlare ma soprattutto voglio pregare per te e così ho pregato per questa persona l'ho incoraggiato l'ho sostenuto ho chiesto a dio di mandare i suoi angeli nella sua casa dove lui dove lui si trovava ho chiesto allo spirito santo di incoraggiarlo bene ci siamo sentiti dopo due giorni era molto più con una voce molto più squillante più rassicurante perché ti dico questo perché noi ci stiamo mettendo a disposizione per la società lo stiamo facendo anche in regola facendo comunicazione alla prefettura facendo comunicazione anche ai quest'ora lo vogliamo fare in regola lo stiamo facendo ci stiamo lavorando e stiamo cercando di farlo quanto più in regola possibile alla luce anche delle autorità che sono su questa città che sono su questo territorio non vogliamo fare niente in modo abusivo non vogliamo giocare con la dignità delle persone ma stiamo cercando di farlo nel modo più legale possibile immaginare perché perché desideriamo che ogni persona possa stare bene e che ogni persona non sia intrappolata da pensieri tante volte diabolici che il diavolo gli mette nella mente gli dice tu non uscirai da questa situazione tu sei un fallito e guarda che tu non ce la farai perché o mettendo paura o mettendo insicurezza o mettendo ansia noi vogliamo aiutare le persone e per questo motivo già ti iniziamo a fornire i numeri di telefono e se ti fa piacere puoi condividerli allora puoi chiamare in qualsiasi ora questi numeri 0432 184 33 56 un altro numero è 329 88 79 382 un altro numero ancora è 351 39 39 39 39 39 39 39 351 94 91 42 ripeto nuovamente i numeri 0432 184 33 56 un altro numero è sempre attivo è il 329 88 79 382 Un altro numero ancora è 351 99 48 363. Un altro numero ancora è 351 94 91 542. Questi numeri sono sempre attivi e disponibili per dare incoraggiamento alle persone, per sostenere le persone. Ovviamente noi vogliamo incoraggiare le persone, vogliamo sostenere le persone, vogliamo parlare con le persone, vogliamo predicare la parola di Dio alle persone, incoraggiare le persone non con filosofie umane, non con la scienza, non con ragionamenti umani, ma vogliamo ascoltare le persone, vogliamo sostenerli, ma vogliamo anche incoraggiarli soprattutto con la parola di Dio e con l'insegnamento della parola di Dio perché la parola di Dio è con lei che sostiene ogni cosa e ogni persona. Oltre a tutto questo siamo stati anche incoraggiati, stiamo lavorando per questo progetto, stiamo preparando tutta la documentazione da presentare agli assistenti sociali, da presentare al comune di Udine, qual è questo servizio? Un servizio di assistenza a tutte le persone anziane o tutte le persone che sono in quarantena, che sono sole, non possono uscire e hanno bisogno, non hanno familiari e hanno bisogno di farmaci o hanno bisogno di derrate alimentari oppure di pagare delle bollette oppure di fare una commissione, di andare a ritirare anche la ricetta dal medico. Stiamo attivando questo servizio quindi di assistenza alle persone e se tu ti dovessi trovare nel bisogno oppure se conosci qualche persona che si trova in questo bisogno inizia a contattarci o dai i nostri numeri telefonici che ti ho elencato prima. Siamo ben disponibili di poter aiutare con massima sicurezza usando ovviamente tutti i mezzi, mascherina, guanti, disinfettanti, tutte le precauzioni possibili immaginare perché non entriamo in contatto con queste persone e vogliamo aiutare le persone perché non vogliamo lasciare nessuno da solo. In tempi in cui stiamo vivendo in tempi di emergenza noi non vogliamo lasciare nessuno da soli, non vogliamo lasciare le famiglie da soli, non vogliamo lasciare le persone da sole e siamo qua per servire, siamo qua per fare l'opera di Dio. Desideriamo che ogni persona possa ricevere veramente soprattutto l'aiuto dal cielo, l'aiuto del Padre, possa ricevere l'indicazione, l'input dello Spirito Santo che ti porta verso la relazione con Cristo Gesù. Così noi vogliamo questa sera benedire tutte le famiglie, vogliamo reclamare su ogni famiglia la provvidenza divina, vogliamo reclamare su ogni famiglia la grazia di Dio, vogliamo reclamare su ogni famiglia la divina provvidenza finanziaria, la divina provvidenza di ogni genere, la pace nei matrimoni, la pace nelle famiglie. Vogliamo reclamare guarigione in tutte quelle persone che sono state contagiate, tutte quelle persone che sono risultate positive al Covid. Nel nome del Signore Gesù Cristo noi dichiariamo guarigione su ogni persona, dichiariamo il potere soprannaturale della parola di Dio sul corpo di ogni persona, sullo spirito di ogni persona, su ogni casa. Nel nome del Signore Gesù Cristo che le case siano inondate non di virus ma siano inondate della presenza dello Spirito Santo, che ogni famiglia sia contagiata dall'amore di Dio, che ogni famiglia sia ripiena e avvolta tra le braccia di Dio. Nel nome del Signore Gesù vogliamo dichiarare la pace in ogni famiglia, l'armonia, le buone relazioni in ogni famiglia. Questo è quello che Dio vuole. Noi vogliamo bloccare l'azione di questo virus in ogni famiglia. Nel nome del Signore Gesù Cristo dichiariamo la sconfitta di questo virus, che lasci i corpi delle persone e vada all'inferno, da dove è venuto, perché questo virus non è venuto dal cielo, è venuto dall'inferno. Dio non manda malattie, Dio manda guarigione. La Bibbia dice che Cristo ha sofferto sulla croce, ha inchiodato le nostre malattie perché possa dare all'umanità la sua guarigione. Questa sera io voglio dichiarare il sangue di Cristo Gesù nella tua vita, nella tua casa, nella vita di ogni persona che sta male, che è stata infettata, che è stata toccata da questo virus. Io reclamo il sangue di Cristo Gesù nel tuo corpo perché sii guarito ora nel nome del Signore Gesù Cristo. E Padre, Signore, ti ringrazio questa sera per le cose meravigliose, Signore, che tu stai compiendo nella vita di ogni persona. Io voglio benedire questa sera, Spirito Santo, ogni persona. Voglio benedire, Signore, ogni famiglia qua nel Friuli Venezia Giulia. Reclama il tuo favore, la tua grazia, Padre, su ogni famiglia, su ogni persona. Ti vogliamo pregare ancora questa sera, Padre, per tutti gli operatori, Signore, degli ospedali, per tutti i medici, coloro che lavorano nelle terapie intensive, coloro, Signore, che fanno le pulizie, coloro che sono impegnati, Signore, negli ospedali. Vogliamo reclamare la tua grazia, il tuo favore, Signore. Vogliamo reclamare protezione sulle loro vite, nel nome potente del Signore Gesù Cristo. Reclamiamo guarigione che persone che in questo momento si trovano nelle terapie intensive, nel nome di Gesù Cristo e il Signore, che siano guarite e che presto escano dalle terapie intensive, nel nome di Gesù e che nessuna persona più possa entrare nelle terapie intensive. Padre, ti chiediamo, stendi la tua mano, stendi la tua potente mano, Signore, su questa regione, Padre, stendi la tua mano sulla nazione dell'Italia, Padre, porta al ristoro, pace, guarigione, coraggio, Signore, a coloro che sono scoraggiati. Ti preghiamo anche per le forze dell'ordine, per la protezione civile, per tutti coloro, Spirito Santo, che sono impegnati in questa emergenza. Ti chiediamo la tua sapienza, la tua intelligenza per coloro che devono fare decisioni, per il governo, Padre. Ti chiediamo la tua divina mano su di loro, che ogni persona, Signore, che è impegnata a prendere decisioni per la nazione dell'Italia, ad iniziare dal Presidente, del Consiglio dei Ministri, a tutti i ministri, Signore, al Capo dello Stato. Signore, ti chiedo, stendi la tua mano e dai sapienza e intelligenza a loro, perché le scelte che fanno, Signore, li possano fare in accordo alla tua parola. Signore, la tua parola ci comanda che prima di ogni cosa dobbiamo pregare per le autorità e noi questa sera ti vogliamo pregare per tutte le autorità. Stendi la tua mano, Signore, perché possano fare, Signore, leggi, perché possano prendere direttive, possano, Signore, fare di CPM, Signore, in accordo, Signore, alla tua volontà. Ma che presto, Signore, queste di CPM, Signore, possano cessare, Signore, che possiamo ritornare alla normalità, che possiamo ritornare ad abbracciarci, Signore. Che le famiglie, gli amici, Signore, possano ritornarsi ad abbracciarsi nel nome del Signore Gesù Cristo. Ti chiediamo tutto questo, Signore, e ti ringraziamo, ti benediciamo per la tua fedeltà, per la tua grazia. Nel nome potente del Signore Gesù ti chiediamo questo, Signore. E a te vogliamo dare tutta la lode, la gloria, l'onore, il ringraziamento, Signore. Vogliamo benedire, Signore, tutte quelle persone, Signore, che stanno attraversando momenti di difficoltà, di solitudine. Tutti coloro, Signore, che sono sotto psicofarmaci. Reclamiamo, Signore, la liberazione, Signore, che queste persone escano da questa schiavitù nel nome di Gesù Cristo. Reclamiamo il tuo favore, la tua grazia, Signore, su queste persone, Signore. Reclamiamo il tuo favore su tutte quelle persone che sono rinchiuse in casa da sole, Signore. Tutte quelle persone, Signore, che non hanno amici, non hanno familiari e sono soli, Padre, soprattutto le persone anziane. Padre, ti chiediamo, stendi la tua mano, stendi il tuo braccio potente. E ti chiedo, Spirito Santo, anche se nessuno umanamente li può abbracciare, nessuno li può raggiungere. Padre, tu li puoi raggiungere. Ti chiedo questa sera, Signore, che miriade di angeli possano raggiungere tutte quelle persone che sono sole e che si possano sentire abbracciate, si possano sentire amate. Nel nome del Signore Gesù ti chiedo tutto questo. E a te voglio darti la lode, la gloria, l'onore e il ringraziamento nel nome di Gesù. E a te che stai ascoltando, ricordati, siamo qua per poterti aiutare, per poterti servire. O se tu non ti trovi nel bisogno e vieni a conoscenza di qualche persona che si trova nel bisogno, siamo qua per aiutare, siamo qua per servire le persone, le famiglie. Chiamaci quando vuoi, siamo ben lieti di rispondere per quel che possiamo ai tuoi bisogni, ai bisogni dei tuoi amici. Continua a seguirci, saremo qua dove parleremo di famiglia ogni venerdì, ma poi parleremo di altro. La domenica c'è il Gospel Live, il sabato abbiamo il servizio per giovani, il servizio religioso per giovani e abbiamo tante anche altre attività online. Resta in contatto che ti forniremo quanto più dettagli possibili. Dio ti benedica, ci vediamo alla prossima diretta.